Salve ragazzi! Negli ultimi anni la ricerca biotecnologica ha portato alla scoperta di molecole sempre più sofisticate per migliorare la performance fisica e metabolica. Oggi parliamo di SLUPP332. È un composto che sta facendo parlare di sé per la sua capacità di mimare alcuni effetti dell'esercizio fisico senza muovere un dito. SLUPP332. Siamo arrivati a un'epoca in cui la gente cerca qualsiasi scorciatoia per evitare lo sforzo fisico. Ma il corpo umano è stato progettato per muoversi, per essere forte e resiliente. Ma oggi passiamo ore seduti delegando alla chimica quello che dovremmo ottenere con il sudore. SLUPP332 rientra proprio in questa nuova categoria di exercise mimetics, cioè sostanze che cercano di attivare nel corpo i percorsi metabolici dell'allenamento, senza allenamento. Ma come funziona realmente? Vediamolo nel dettaglio. SLUPP è un agonista dei recettori estrogeno correlati. Non ha nulla a che vedere con l'aumento dei livelli di estrogeni del corpo. Questi recettori sono recettori nucleari che regolano il metabolismo energetico e la biogenesi mitocondriale, ovvero la capacità della cellula di creare nuovi mitocondri, che sono i veri motori della produzione energetica del corpo. Iniziamo vedendo quali sono i principali effetti di questa molecola. Aumento della biogenesi mitocondriale, il processo attraverso il quale vengono prodotti nuovi mitocondri, generalmente in risposta a stress metabolico o alla necessità di aumentare la capacità ossidativa del corpo. Un numero maggiore di mitocondri consente un utilizzo più efficiente dei substrati energetici, migliorando la resistenza fisica e la capacità metabolica. Maggiore ossidazioni dei grassi. L'ossidazione dei grassi è il processo mediante il quale gli acidi grassi vengono utilizzati come fonte di energia, specialmente durante esercizi di resistenza e in condizioni di deficit calorico. Slupy P sembra aumentare la capacità delle cellule di mobilizzare e ossidare gli acidi grassi, riducendo l'accumulo di grasso corporeo e migliorando la composizione corporea. Attivazione di AMPK, che è un'enzima che agisce come sensore energetico cellulare, viene attivato quando i livelli di ATP si riducono, come avviene durante l'esercizio fisico o il digiuno, e induce adattamenti metabolici volte a ripristinare l'equilibrio energetico. Slupy P sembra stimolare direttamente AMPK, mimando gli effetti metabolici dell'attività fisica. Stimolazione di PGC-1α, che è un regolatore chiave della biogenesi mitocondriale e dell'adattamento all'esercizio fisico. È coinvolto nell'aumento della capacità ossidativa del muscolo scheletrico e nella regolazione dell'omostasi energetica. Promuove l'espressione di geni associati alla produzione di nuovi mitocondri, migliorando la capacità aerobica e la resistenza muscolare. Effetto di disaccoppiamento mitocondriale controllato. Il disaccoppiamento mitocondriale è un processo in cui parte dell'energia che normalmente verrebbe utilizzata per la produzione di ATP viene invece dissipata sotto forma di calore. Questo può portare a un aumento del consumo energetico senza necessariamente aumentare la produzione di ATP. SLUPP sembra promuovere questo disaccoppiamento mitocondriale più controllato, aumentando il consumo energetico senza compromettere eccessivamente la produzione di ATP e senza gli effetti collaterali gravi associati ad altre sostanze che in passato venivano più utilizzate come il DNP. In pratica questa molecola simula alcuni effetti metabolici dell'esercizio, segnala al corpo che è in uno stato di stress energetico e costringe ad adattarsi come se si stesse allenando. Ma io credo profondamente che non può replicare l'esercizio fisico come viene tra virgolette venduto. Nessuna sostanza può replicare gli effetti strutturali, neuromuscolari o ormonali di uno squat pesante o di uno sprint o di una surfata. Ma cosa dicono gli studi? Esistono prove sull'uomo? Studi su modelli animali hanno mostrato un aumento della resistenza fisica e un miglioramento del metabolismo dei grassi. Gli animali trattati con SLUPP hanno mostrato una maggiore capacità ossidativa nei muscoli scheletrici, attribuita all'incremento della biogenesi mitocondriale. Questo effetto suggerisce una maggiore efficienza metabolica e un miglioramento delle prestazioni fisiche. SLUPP sembra anche influenzare l'omeostasi del glucosio, migliorando l'assorbimento e l'utilizzo del glucosio nei tessuti muscolari, un effetto simile che avviene durante e dopo l'esercizio fisico. L'attivazione di PGC1-alpha favorisce una maggiore espressione dei trasportatori di glucosio, i GLUT4 o GLUT4, migliorando l'efficienza del metabolismo glucidico e la sensibilità insulinica. E nello specifico aumento delle fibre muscolari ossidative di tipo 2A, che sono caratterizzate da un'elevata capacità di resistenza e utilizzano prevalentemente il metabolismo aerobico per la produzione di energia. Quindi sempre un punto a favore della betossidazione di acidi grassi. Queste fibre contengono un'abbondanza di mitocondri e mioglobina, il che li rende ideali per l'attività di lunga durata e sforzi prolungati, quindi un possibile miglioramento della capacità di esercizio aerobico. Questo effetto è in linea con l'attivazione dei recettori degli estrogeni correlati e la simulazione della biogenesi mitocondriale, che porta a un miglior utilizzo dell'ossigeno e una maggiore resistenza muscolare. I dati invece su utilizzatori umani sono pressoché aneddotici e riportano una migliore definizione muscolare perdita di grasso senza variare alimentazione o attività fisica. Questo potrebbe essere correlato all'attivazione dell'MPK, che migliora la mobilitazione e l'ossidazione di acidi grassi e sembra essere uno dei fattori più potenziati da questo peptide e quindi va a favorire una riduzione della massa grassa anche senza alterare la dieta o l'allenamento. Tuttavia... Mancano ancora studi clinici controllati sull'uomo per determinare esattamente il suo profilo di sicurezza ed efficacia. Sebbene i dati preliminari siano promettenti, è fondamentale sottolineare che questo peptide è attualmente in fase di ricerca e non sono disponibili studi clinici sull'uomo che ne confermino l'efficacia e la sicurezza. Sarà anche fondamentale a mio avviso valutare la cronicità del suo utilizzo, poiché un'eccessiva funzionalità mitocondriale porta inevitabilmente a un aumento della produzione di radicali liberi. I mitocondri, infatti, oltre ad essere il motore energetico della cellula, sono anche una delle principali fonti di specie reattive dell'ossigeno o radicali liberi. Un aumento prolungato della biogenesi dell'attività mitocondriale potrebbe paradossalmente incrementare lo stress ossidativo, compromettendo l'equilibrio cellulare e aumentando il rischio di danni a livello dei tessuti. Sarà dunque fondamentale comprendere se il corpo sia in grado di bilanciare adeguatamente l'aumento dell'attività mitocondriale con una sufficiente risposta antiossidante, o se al contrario l'uso prolungato di SLU-PP possa risultare deleterio nel lungo termine. La regolazione della durata di cicli di utilizzo e il monitoraggio della risposta cellulare potrebbero essere aspetti determinanti per sfruttare i benefici senza incorrere in effetti collaterali legati allo stress ossidativo cronico. Le conclusioni, secondo il mio parere, sono che questo peptide rappresenta un'interessante innovazione nel mondo della biochimica applicata alla gestione di condizioni che limitano il movimento. Potrebbe essere utile per chi ha gravi patologie o disabilità, non ha la possibilità di svolgere attività fisica, aiutando a mitigare gli effetti negativi della sedentarietà. Tuttavia, non dovrebbe mai essere utilizzato da persone sane come scusa per evitare l'allenamento, né far passare il messaggio che possa sostituirlo. E tutto questo discorso dovrebbe farci capire che viviamo appunto in un'epoca, come detto all'inizio, in cui le persone cercano le scorciatoie da tutto, dalle pillole brucia grassi alle strategie hackeranti il corpo per bruciare calorie mentre siamo seduti sul divano a mangiare le patatine. Il problema non è trovare la molecola perfetta per bruciare grassi, ma accettare che il corpo umano è stato progettato per muoversi. E muoverci ci può far solo star bene, meglio e non solo fisicamente, ma anche mentalmente. E se pensiamo che un peptide possa sostituire l'esercizio fisico, l'allenamento e lo sport e ci permette di mangiare senza ingrassare, STRAVACCO Finiremo per indebolire il corpo, perdere la nostra naturale capacità di adattamento e comprometterne la funzionalità a lungo termine. L'illusione di poter aggirare le leggi della fisiologia ci porterà solo ai risultati deludenti. Bene figliozzi, il video termina qui. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Se vi è piaciuto il video lasciate il like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Ci vediamo nel futuro artificiale. Un abbrazzo e pura vita. STRAVACCO STRAVACCO